A gennaio Electra festeggerà i suoi 70 anni di attività, 1947-2017. Abbiamo in programma tutta una serie di eventi che non saranno però celebrativi, ma anzi saranno propositivi. Il nostro intento è quello di diffondere la cultura di prodotto, la cultura del caffè e dell'espresso italiano in modo particolare. A Trieste Espresso, in anteprima mondiale, presentiamo due macchine in tiratura limitata che rappresentano perfettamente tutta la storia dei nostri 70 anni. Quindi un design dell'epoca con un cuore molto moderno per fornire un espresso molto performante, molto attuale, ma che ricorda nel design e nell'estetica il gusto del passato. Seguiranno altri eventi, stiamo creando una serie di attività formative nella nostra Academy, in collaborazione con l'Umamiaria, proprio per diffondere la cultura del migliore espresso italiano riproducibile in tutto il mondo. Creeremo una serie di video didattici, di tutorial, in modo che ciascuno dei nostri utenti, dei nostri interlocutori, possa sfruttare al meglio tutto il lavoro fatto in 70 anni di attività, di ricerche, di progetti e di innovazione, sia per la sicurezza che per la qualità di prodotto.